Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano, estate ai titoli di coda tra anticiclone e nuovi possibili cedimenti in vista, ecco la tendenza per i prossimi giorni. Situazione sinottica attuale che vede lo spostamento verso est della goccia fredda, complice del maltempo di questi giorni. Tra oggi e domani residua instabilità in Italia con qualche piovasco sui rilievi, ma senza fenomeni di rilievo. Seconda parte della settimana che vedrà un progressivo recupero dell'alta pressione, che si disporrà lungo i paralleli abbracciando anche l'Italia. Poche variazioni fino al weekend, ma a seguire si fa strada l'ipotesi di una nuova fase perturbata, che potrebbe concretizzarsi con l'avvio della prossima settimana. Ancora presto tuttavia per scendere nel dettaglio. Trattandosi di una tendenza seguite tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.